Mantenete buoni rapporti con gli sportivi. Questo è il consiglio di Roberto Mancini per gli allievi della Summer School in giornalismo sportivo della scuola Walter Tobagi. È stato proprio il commissario tecnico della Nazionale di Calcio l'ospite speciale dell'ultima giornata di lezioni alla Statale di Milano. Una settimana che ha visto protagonisti in cattedra professionisti come Stefano Bizzotto, Luigi Garlando e Matteo Marani. Con Mancini si è parlato del rapporto tra mondo dello sport e stampa. Tanti gli spunti emersi dalla chiacchierata moderata da Daniele Dall'Era del Corriere della Sera, come le differenze nelle relazioni con i media negli altri paesi e le difficoltà dei calciatori più giovani nel gestire i giornalisti. Diciamo che in Italia è abbastanza difficile perché soprattutto quando si è un po' più giovani, quando inizia a diventare un po' più esperti, si passa super a tante cose. Incalzato dalle domande degli studenti, l'allenatore ha snocciolato anche qualche aneddoto personale, come una delle prime imbarazzate interviste avvenute nello spogliatoio al termine di un Sampdoria Inter. Il ricordo più bello? Spero arrivi a luglio agli europei.